Intanto grazie per aver partecipato a Talk questa sera, eravamo in tanti, quindi grazie, sta diventando un appuntamento seguito e secondo me molto importante, molto importante per dare voce ai tifosi rossoneri, ai miei amici, a tutti quelli che seguono questo canale e che hanno voglia di dire la loro e di potersi confrontare anche via web con altri tifosi rossoneri, nei commenti, nella chat, lo facciamo tutto il giorno nel gruppo Telegram, insomma il tutto sta crescendo e sta crescendo così come l'interesse per il Milan. Cercherò di usare all'interno di questo video delle parole e come dire dei pensieri che mi appartengono ma che non vogliono fare incazzare in alcun modo coloro che sono estremamente soddisfatti di questa campagna acquisti, legittimamente perché ognuno vede calcio a modo suo, ognuno si immagina anche il Milan a modo suo e quindi è giusto che ci siano persone che sono contente della costruzione della squadra e poi ci sono dei dati oggettivi perché comunque Pulisic è un giocatore importante, se avrà la fortuna e la bontà di essere costante, di essere utilizzato nel modo giusto, sicuramente l'Office Cheek aiuta a irrobustire il nostro centrocampo, sicuramente Reinders può essere una bella scoperta, può essere con l'incognita di aver giocato fondamentalmente una grande stagione nella sua carriera e di non essersi mai confrontato a grandissimi livelli perché tutto sommato anche la conference, insomma fino alla semifinale, non è che sia stato un percorso particolarmente probante, così come il fatto, evidenziato anche nel corso di Talk, che non abbia mai giocato in nazionale, che poi vuol dire un po' tutto, un po' niente, nel senso che sappiamo come ci siano dei giocatori che la maglia della nazionale non la mettono per varie ragioni. Scopriremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se effettivamente Reinders può dare al nostro centrocampo l'apporto che tutti noi ci auguriamo, incluso il sottoscritto, il quale, adesso parlo di me in terza persona, Rinaldo è contento di questo acquisto? No, scherzi a parte, io sono contento perché quando arrivano giocatori che giocano il pallone lo fanno anche a testa alta, per me è sempre una buona cosa, quindi benvengano profili di questo tipo. Benvengano profili anche come Danjuma, sicuramente. Danjuma è un giocatore che, insomma, sembra il Milan interessato a prendere in prestito, quindi tutto sommato andrebbe molto probabilmente a sostituire uno tra Rebic e Orighi, probabilmente Rebic anche per la sua collocazione in campo, ma quello che credo sia interessante per quel che riguarda Danjuma è la prospettiva di utilizzo all'interno del Milan. Ne parliamo tra poco. Prima vorrei soltanto fare così un piccolo inciso, un piccolo chiarimento o comunque una considerazione su Musa. Perché? Perché chi segue il gruppo Telegram sa quanto io abbia scherzato fondamentalmente fino a un certo punto, ma anche seriamente spiegato, anche oggi in un post, quali sono le mie perplessità legate all'acquisto di questo giocatore. Perplessità legate innanzitutto al tipo di giocatore, perché non è il calciatore che io avrei voluto nel mio Milan ideale, ma questo ovviamente è un problema mio. E poi ci sono dei dati oggettivi. I dati oggettivi sono quelli di caratteristiche di un giocatore che secondo me potrebbero creare dei problemi. Potrebbero creare dei problemi soprattutto ad una squadra come la nostra che presumibilmente continuerà, anche se magari non del tutto, ma in maggior parte delle volte, continuerà ad essere una squadra molto verticale, quindi molto proiettata a guardare la porta avversaria cercando di far arrivare il pallone veloce dalla parte opposta. Se da un punto di vista di costruzione questo ha un senso, un giocatore come Musa ha un senso, intendo dire che negli Stati Uniti, visto ad esempio, o in questi giorni ho rivisto alcune partite degli Stati Uniti ai mondiali, anche dove a molti Musa era piaciuto parecchio, ecco si nota come le difficoltà nel leggere certe situazioni, soprattutto una posizione in campo spesso errata, possono creare dei problemi, perché noi stiamo costruendo un centrocampo che ha tre giocatori tutti con la stessa, tutti con lo stesso difetto, che poi questo non può essere incorreggibile, ci mancherebbe, nella vita solo a una cosa non c'è rimedio, forse. Ma potrebbero crearci dei problemi, cioè il fatto dell'attacco alle spalle. Sia Loftus-Cheek che Reinders che Musa hanno questo problema. Musa a questa cosa aggiunge anche una difficoltà tattica che è apparsa evidente persino in quelle partite degli Stati Uniti, dove ha giocato da mezz'ala e dove ha faticato a trovare la marcatura, dove ha faticato a trovare la posizione. La stessa cosa è accaduta anche in altre partite degli Stati Uniti, anche con avversari molto più facili, ad esempio le qualificazioni ai mondiali, dove ha affrontato il Salvador, dove ha affrontato il Nicaragua, non lo so, queste squadre qui che ovviamente non avevano la possibilità nemmeno di tenere il pallone, eppure Musa aveva questo difetto della posizione anche nel momento della costruzione. Quindi una tendenza un po' a muoversi in una posizione leggermente sbagliata. Ripeto, sono tutte cose che si possono correggere, ma quello che io credo debba essere chiaro, a mio avviso, è che seppur possa non capire onestamente, ma seppur possa accettare l'entusiasmo di molti per questo eventuale acquisto, anche se sembra che si sia vicinissimi, vorrei precauzionalmente suggerire di avere pazienza poi con lui, perché potrebbe esserci bisogno di un periodo di apprendimento, di, come dire, di salto di qualità di questo ragazzo, da un punto di vista tattico, del quale lui necessita. Lui ha bisogno di lavorare su questa cosa, perché va in difficoltà. Va in difficoltà sugli attacchi alle spalle, va in difficoltà sulle marcature, poi lui ci mette dinamismo, ci mette corsa, prova anche interdire, insomma è un ragazzo di tanta buona volontà, questo non lo metto in dubbio. Ma ci sono questi due aspetti, cioè l'aspetto appunto della posizione, il senso della posizione, è un po' la tecnica che secondo me gli fa difetto, che mi fanno così implorare quasi di avere pazienza. Lo dico io che sapete benissimo come non sarei andato su questo nome. Poi molti mi dicono ma però quando si dice che non piace bisogna fare i nomi alternativi. Io nomi alternativi non ne faccio, in realtà ne ho fatti quattro in un video che secondo me potevano essere buone soluzioni, tra le quali anche Ricci, ma tra le quali anche il famoso centrocampista del Girona, che non è tanto lui quanto il tipo di giocatore che io avrei voluto come vertice basso in un ipotetico centrocampo a tre. Che poi si giochi a due a tre lo scopriremo, questo è ciò su cui sta lavorando il mister è ovviamente giusto così. Ecco, attenzione perché non vorrei che poi magari tra un paio di mesi ci trovassimo in posizioni completamente opposte, diametralmente opposte. Cioè io e la compagnia magari a difendere la squadra perché bisogna avere un po' di pazienza è una parte dei tifosi che invece si scaglia contro dandogli dell'imbranato, dandogli del malcapitato e tutte queste cose qua. Quindi ecco, volevo soltanto fare questa precisazione. Non è una condanna, non è una croce addosso, è semplicemente la constatazione che questo ragazzo ha dei limiti e questi limiti vanno attesi nella speranza che possano essere cancellati, che si possa farlo crescere. Ecco, questo è quanto per quel che riguarda Musa. Per quel che riguarda invece Danyuma il discorso è più interessante secondo me. Intanto perché parliamo di un giocatore comunque di qualità. Un giocatore che è vero non ha lasciato il segno nella sua esperienza al Tottenham ma che veniva comunque da una buonissima stagione col Villareal dove addirittura non solo aveva fatto delle buonissime cose da esterno sinistro, perché lui fondamentalmente nasce esterno sinistro, ma più che lì molti suoi allenatori l'hanno indicato come seconda punta, come riferimento centrale, tant'è che tante partite col Villareal, anche in Champions League, penso a quella con la Juventus, penso a quella col Bayern Monaco, sono state giocate da lui in una posizione di seconda barra prima punta, sempre con la tendenza a muoversi, quindi con la propensione a spostarsi in una zona di campo a lui consona, ma ecco anche come riferimento centrale. E questa cosa cosa potrebbe farci pensare? Potrebbe farci pensare che avendo preso Pulisic, che può giocare, anzi dovrebbe giocare nella posizione Leao, nel senso che lui nasce lì e secondo me lì è dove rende meglio, ma ponendo di avere Pulisic come soluzione a destra, che io non condividerei più di tanto perché secondo me sarebbe un adattarlo, ma nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare ai profili ricercati potrebbe essere un'idea di Pioli, più che a sinistra come alternativa di Leao, io da Niu ma me lo immagino come alternativa Giroud, quindi come un riferimento centrale, che non dà in realtà, scusate il gioco di parole, un riferimento alla difesa avversaria e che possa essere complementare a un'azione magari sviluppata dalla sinistra, che sappiamo essere il nostro punto forte, che poi vada a spostarsi verso il centro. Questa è l'idea che mi è venuta, cioè il senso del prendere questo giocatore secondo me è quello lì, non è tanto il fatto che prenderemmo il quinto giocatore a sinistra fondamentalmente qua, no, aspetta, fammi contare, se dovesse arrivare oggi, eh, dovesse arrivare oggi avremmo Leao, Pulisic, avremmo Rebic, avremmo Righi che può giocare anche lì e avremmo anche Dan Juma, quindi sarebbe davvero il quinto giocatore che, diciamo, formalmente, nominalmente è principalmente quel tipo di attaccante lì, no, poi vabbè, è chiaro che Rebic e Righi sono casi particolari, ma sono stati usati spesso da Pioli da quella parte, quindi credo che più che per, ecco, più che per la sinistra, lui potrebbe arrivare per una situazione centrale, poi qualche volta può giocare anche a destra, lui è un giocatore anche al quale piace svariare sul fronte offensivo, può giocare a destra, però io non credo che sia lui come Pulisic quel tipo di profilo che il mister vorrebbe da quella parte, e non lo dico perché lo immagino, lo dico perché ce l'ha detto lui, a lui piacerebbe, secondo me, un giocatore mancino, ed ecco perché si seguiva CQS, che probabilmente difficilmente arriverà, giustamente anche per ragioni di costo, gli piacerebbe più quel tipo di giocatore, poi è chiaro che dal mercato non possono arrivare 50 uomini e quindi bisognerà fare un po' di necessità virtù, soprattutto in un mercato come questo, dove fino a questo momento l'unica uscita è stata quella di tonali, quindi dobbiamo cercare di anche operare in quel senso e credo che le prossime settimane saranno propedeutiche proprio a questo tipo di operazioni, ma ecco io vedo un Daniuma in mezzo, vedo un Daniuma anche come alternativa di Giroux, se arriverà naturalmente, ditemi le vostre impressioni e colgo l'occasione per augurarvi buonanotte o buongiorno se mi state seguendo di mattina. Ciao a tutti.